La sindrome dell'intestino corto è una patologia rara in cui l'intestino non riesce più ad assorbire nutrienti in maniera sufficiente. La terapia primaria è la nutrizione parenterale domiciliare, cioè la somministrazione per via venosa che ha una durata tra le 10 e le 18 ore. La sindrome dell'intestino corto è un quadro clinico che si manifesta quando gran parte dell'intestino è stato reseccato con interventi chirurgici per cui la superficie di assorbimento si riduce moltissimo per cui si verifica il malassorbimento di ciò che il paziente assume con gli alimenti. Il problema fondamentale è che la qualità di vita può essere alterata dal fatto di dipendere quindi da un'infusione endovenosa. Tramite questo carattere venoso centrale vengono riversati sia liquidi e sia tutti i nutrienti che sono necessari poi per mantenere l'equilibrio e per mantenere la crescita. Quindi di fatto l'infusione può durare nella migliore delle ipotesi, dura soltanto a una durata solo notturna, quindi nelle 12 ore notturne. È però disponibile un farmaco che favorisce lo svezzamento della nutrizione parenterare o perlomeno ne riduce la dipendenza. Si chiama teduglutide e aumenta la capacità di assorbimento dell'intestino. La teduglutide va a incrementare questa capacità fisiologica dell'intestino di adattarsi, quindi va a sfruttare alcuni meccanismi di natura ormonale che in qualche modo fanno sì che l'intestino possa trovare una propria strada anche indipendentemente da quelle che sono le sue capacità autonome di adattamento. Questo si traduce in meno ore di infusione durante la notte della nutrizione parenterale o meno giorni di infusione alla settimana di nutrizione parenterale. Nei casi migliori si traduce in un totale svezzamento della nutrizione parenterale domiciliale. Da sottolineare infine che nonostante la patologia sia stata inserita nel registro europeo delle malattie rare, questo riconoscimento non è ancora stato recepito dal Servizio Sanitario italiano. Dobbiamo lottare spesso con l'ASRE che non avendo delle leggi comunque sia non riconosce la gravità dell'invalidità. Anzi, bisogna ammettere che nei bambini, nei pediatrici, uno dei due genitori smette di lavorare. Non avendoci l'identificazione della patologia non ci sono i corsi accademici, non c'è ricerca, non c'è conoscenza. In Italia sono oltre 5.000 le persone affette da emofilia, una rara patologia della coagulazione del sangue che può causare problemi articolari e perdita progressiva di mobilità. L'attività fisica dei pazienti è importante per la salute delle articolazioni, ma in epoca Covid una persona con emofilia su tre ha smesso di svolgerla. Un prezioso aiuto arriva da Articoliamo, una campagna sostenuta da Sobi con il patrocinio di Fedemo, che prevede il sito articoliamo.com con informazioni e consigli e Articoliamo in tour, una serie di incontri in diverse città italiane. Quello che finalmente abbiamo raggiunto è una cura del paziente che riguarda l'educazione del movimento, motivo per cui anche Articoliamo in questo ha aiutato tantissimo perché confezionando questi esercizi che i pazienti possono fare a casa comunque abbiamo raggiunto un sacco di persone e non abbiamo fatto solo gli esercizi con i video che le persone possono vedere, abbiamo parlato di dieta, abbiamo parlato di che cosa vuol dire avere le martole, abbiamo parlato di tante cose. Più specificatamente a Milano abbiamo iniziato, quando c'è stato il Covid, a fare della fisioterapia in diretta, cioè abbiamo fatto la zoom terapia e ancora adesso stiamo continuando con un altro progetto dove facciamo la fisioterapia in diretta e l'abbigliamo un corso di Nordic Walking. Italia protagonista nella lotta al Covid è anche grazie allo stabilimento di Parma dell'azienda farmaceutica GSK, dove sarà prodotto un anticorpo monoclonale per tutto il mondo. Il farmaco ha dimostrato una riduzione dell'85% dell'ospedalizzazione o della morte se somministrato nella fase precoce della malattia. Il 7831 ha delle peculiarità, quindi è un anticorpo monoclonale, monoclonale perché viene sviluppato da un solo tipo di cellula immunitaria che è proprio quella targhettizzata sul virus. Nel caso specifico il 7831 ha una doppia azione, cioè impedisce sia l'ingresso del virus nelle cellule sane sia quello di eliminare le cellule che sono già infettate, quindi per questo motivo è estremamente promettente. Inoltre, siccome va ad agire su una parte del virus che non muta, risulta estremamente efficace anche contro le varianti. Questo farmaco parla italiano e sarà disponibile in Italia in breve tempo perché è prodotto nel nostro sito biotecnologico di Parma. C'è un alto interesse per Vir7831 perché è l'unico anticorpo monoclonale che ha ridotto l'ospedalizzazione o la morte nel 85% dei casi ed efficace contro la varianti del virus.